Pereira ha un problema al ginocchio che si porta indietro da tanto tempo, correndo male un po' diciamo che questi giorni aveva risentito un po' un problema all'adduttore e non l'ho rischiato, non so pazzo è che non l'ho fatto giocare. Andiamo prima da Calcio FWG e poi in seconda fila da Tutulinese. Mister, oggi ha segnato proprio Isaac Sasses che è stato uno dei giocatori più criticati finora in questo momento, a rientro nello spogliatoio che giocatore ha visto? Cioè questo gol ha dato in qualche modo una carica possiamo dire di averlo per le ultime gare? Ma proprio ieri mattina ho chiamato nel mio spogliatoio e ci ho parlato un po', perché era l'unico che non era entrato, era l'unico che comunque vedevo che si era un po' isolato e gli ho detto guarda che io so così, devo conoscere tutti quanti e non è detto che domani non entri, non giochi, quindi ho bisogno di gente positiva, gente consapevole che da qui alle prossime tre settimane ci giochiamo tutto.